Abbiamo difficoltà nell'alta padovana e anche nella bassa padovana sia per quanto riguarda i seminativi, quindi mais e frumento, sia per quanto riguarda gli ortaggi e anche per quanto riguarda il frutticolo. Si fa preoccupante la situazione dell'agricoltura padovana a causa del maltempo che è imperverso ormai da settimane e il ritardo nell'arrivo della primavera fa il resto. Ad esempio per il mais nel padovano ci sono 30 mila ettari già in parte seminati. A causa della troppa acqua con le piogge abbondanti non ci sono germogli e quindi la crescita stessa del mais è a rischio, così come la possibilità di proseguire la semina visti i campi inzuppati. Per quanto riguarda invece i 30 mila ettari che abbiamo tra frumento ed orzo, il problema è che il 50% del forte vento che si è verificato nella scorsa settimana ha allettato più del 50% della produzione e quindi questo va a includere, va a danneggiare la produzione e la qualità del prodotto. Ma anche le temperature ancora basse e il freddo persistente creano problemi gravi con i fruttetti, importante nel padovano ad esempio la produzione di pere, mele e kiwi. Oggi il freddo è anche uno dei problemi maggiori che abbiamo sui fruttetti e non è legato alla pianta del fruttetto ma è legato agli insetti. Gli insetti con il freddo e soprattutto con la pioggia non vanno a impollinare i nostri prodotti, non vanno a impollinare le nostre produzioni. Ormai insomma i cambiamenti climatici sono una realtà, il maltempo e i danni che provocano sono più eventi rari ma ogni anno si ripropongono le stesse situazioni, agli agricoltori non restano molte armi per difendersi. Gli agricoltori oggi l'unica arma di salvaguardia per il proprio reddito è quella di assicurarsi e quindi noi abbiamo necessità che oggi la politica, la politica comune europea e quindi la PAC e quindi la comunità europea diano incentivi per le aziende agricole per provvedere alla propria assicurazione e quindi al minimo di garantire un proprio reddito. Quantificando negli ultimi dieci anni i danni diretti causati dal maltempo in Veneto, calcolando che qui la produzione costituisce il 10% del totale nazionale, corrisponde circa un miliardo e mezzo di euro se nelle prossime ore il tempo migliorasse, calcolato che il 25% della produzione ormai persa, il 75% rimanente si salverà.